Eva Perón nata Maria Eva Duarte, è stata un'attrice, politica, sindacalista e filantropa argentina. Seconda moglie del presidente Juan Domingo Perón, Eva è stata primera dama dell'Argentina dal 1946 fino alla sua morte nel 1952. Ecco alcuni punti salienti del suo governo e della sua influenza origini e carriera Eva Duarte nacque nel 1919 a Los Stoldos, in Argentina. A 15 anni si trasferì a Buenos Aires, dove intraprese una carriera da attrice di teatro, radio e cinema. Nel 1944, conobbe il colonnello Juan Domingo Perón durante un evento di beneficenza e i due si sposarono l'anno successivo. Il peronismo nel 1946, Juan Perón fu eletto presidente dell'Argentina, proponendo una politica sociale e nazionalista chiamata Peronismo, Eva contribuì attivamente al movimento, patrocinando i diritti dei lavoratori e dei più poveri. Diritti delle donne grazie alle sue lotte. Nel 1947 il Parlamento approvò il diritto di voto alle donne. Eva Perón divenne un'icona per le donne argentini, che l'adoravano e imitavano il suo stile. Malattia e morte Eva morì a soli 33 anni a causa di un tumore all'utero. La sua figura è ancora oggetto di venerazione popolare in Argentina. Eredità Eva Perón è stata celebrata in film, libri e opere teatrali, incluso l'omonimo musico Levita e il suo governo ha avuto un impatto significativo sulla politica e sulla società argentina, e la sua memoria continua a vivere nel cuore del popolo. L'influenza di Eva Perón sulla politica argentina è stata profondamente significativa e controversa. Ecco alcuni punti chiave. Popolarità e carisma Eva Perón era estremamente popolare tra le masse. La sua abilità di connettersi con la gente comune e il suo carisma l'hanno resa un'icona per molti argentini. Ruolo ufficiale in quanto prima dama, Eva aveva un ruolo ufficiale nel governo del marito, il presidente Juan Domingo Perón. Ha sostenuto attivamente politiche sociali e diritti delle donne. Critiche tuttavia, la sua influenza è stata oggetto di critiche. Alcuni la vedevano come una figura autoritaria e manipolatrice. La sua crescente influenza politica ha suscitato preoccupazioni riguardo alla concentrazione di potere. PERONISMO Eva Perón è stata una figura chiave nel movimento peronista, che promuoveva il nazionalismo, i diritti dei lavoratori e la giustizia sociale. Il peronismo ha avuto un impatto duraturo sulla politica argentina. Eredità Dopo la sua morte nel 1952, Eva è diventata un mito e un simbolo di lotta per i diritti delle donne e dei meno fortunati. La sua eredità continua a influenzare la politica e la cultura del paese. In sintesi, Eva Perón è stata una figura complessa, amata e contestata, che ha lasciato un'impronta indelebile sulla storia politica dell'Argentina. Mentre Eva Perón ha ottenuto notevoli successi, ci sono stati anche alcuni fallimenti durante il suo governo, critiche all'autoritarismo. Alcuni critici hanno sostenuto che il governo di Eva Perón fosse autoritario e centralizzato. La sua influenza sulla politica e sulle decisioni potrebbe aver limitato la democrazia. Eccessiva personalizzazione del potere, Eva Perón aveva un'enorme influenza sul marito, il presidente Juan Domingo Perón. Questo potrebbe aver portato a una concentrazione di potere nelle mani di pochi punto problemi economici. Nonostante gli sforzi per migliorare le condizioni dei poveri, l'Argentina ha continuato a lottare con problemi economici e disuguaglianze strutturali. Salute pubblica, Eva Perón ha dedicato molto tempo alla sua fondazione benefica. Ma alcuni hanno criticato la mancanza di investimenti nel sistema sanitario pubblico. Relazioni internazionali. Il governo di Eva Perón ha avuto relazioni complesse con altri paesi, soprattutto a causa della sua posizione politica e delle politiche nazionaliste. È importante notare che queste critiche non devono oscurare i suoi successi e il suo impatto positivo sulla società argentina.